Bentornati su mondiali.it Anche questa settimana iniziamo con lo spacchettamento nel quale vi proporremo i tre giocatori all'interno del pacchetto più un quarto giocatore a nostra discrezione Il vostro compito sarà quello di votare il vostro preferito per commentare insieme la 32esima giornata di Serie A e per iniziare a formare la squadra di mondiali.it Allora iniziamo a spacchettare e vediamo cosa ci riserva la sorte per questa giornata Per primo troviamo Lorenzo Ariaudo del Frosinone Riccardo Migliorini del Chiedo e Luca Rossettini sempre del Chiedo Beh, un commento su questi giocatori Il Frosinone questo weekend gioca con l'Inter quindi sicuramente è un giocatore da non schierare visto che i nerazzurri sono in forma lo sconsigliamo al fantacalcio Poi abbiamo due giocatori del Chiedo Riccardo Migliorini e Luca Rossettini Il Chiedo questa settimana se la vedrà con il Napoli quindi è un gran bel dilemma perché è vero che il Napoli è una squadra forte è anche vero che è un Napoli che non ha più nulla da dire al campionato mentre il Chiedo sta cercando di onorare la competizione al massimo quindi ci fidiamo e gli diamo per buoni Per quanto riguarda il nostro giocatore consigliato di giornata la nostra scelta cade su Marco Parolo La Lazio questo weekend affronterà il Milan in una sfida Champions emozionantissima e siamo sicuri che il centrocampo della Lazio darà il suo contributo Quindi la nostra scelta per questa giornata è Marco Parolo della Lazio E per oggi è tutto Mi raccomando commentate il vostro giocatore preferito scegliendo l'emoticon che più vi piace e ci vediamo domani con altri consigli di mondiali.it Grazie 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 Grazie